Tre feriti per lo scontro tra una moto e un'auto finita rovesciata fuoristrada lungo la provincia del 94 in via Prandina a Gran Torto. I pompieri di Cittadella hanno prestato i primi soccorsi alle due persone in sella alla moto, padre e figlio, fino all'arrivo del personale del suo M118 intervenuto anche con l'eliambulanza. Sotto shock l'automobilista è uscito autonomamente dalla vettura. I tre feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e portati in ambulanza all'ospedale di Cittadella. La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.